Nonostante le rassicurazioni provenienti dai vertici della sanità agrigentina, l'attacca dell'ospedale San Giovanni di Dio resta guasta. A distanza di 16 giorni dal problema tecnico che ne ha causato il fermo, il guasto non è ancora stato risolto, nonostante le promesse di risoluzione entro l'8 di gennaio. In provincia di Agrigento impazza dunque la polemica. Sono due i casi in cui l'assenza di un'attacca disponibile ha comportato ritardi negli esami diagnostici in pazienti, poi deceduti o in coma. Il ritardo potrebbe essere stato fatale per la giovane puerpera che è ricoverata appunto in coma a Caltanissetta, mentre i familiari di un 75enne deceduto mentre aspettava un esame hanno presentato un esposto in procura. Se si sia trattato realmente di casi di mala sanità e quale sia stato il ruolo dell'attacca guasta nelle singole vicende, saranno le inchieste a verificarlo. Intanto però scende in campo a difesa della classe medica il presidente dell'ordine in provincia di Agrigento. Ascoltiamolo al microfono della collega Anna Maria Di Leo. La rottura dell'attacca, da quello che è dato sapere, non ha assolutamente nessuna attinenza con ciò che è stato fatto. Mi risulta che tutto l'iter clinico, diagnostico e terapeutico occorrente è stato fatto con l'assoluta appropriatezza e con l'assoluta immediatezza. Devo registrare un grandissimo a proposito disagio da parte della professione che si sente quasi aggredita mediaticamente da questo continuo tantam mediatico. Per cui innanzitutto rassicurerei i cittadini che la grandissima parte della professione si adopera quotidianamente per dare le giuste risposte che spessissimo, anzi quasi sempre, vengono date ai nostri cittadini. E poi lasciamo lavorare con serenità i medici, gli infermieri, tutta l'organizzazione sanitaria della nostra provincia che veramente mi risulta da il massimo per poter dare le giuste risposte.